Travor Crevenot, capitano della Gassese Blue Energy Ball in Piacenza. Dopo la partita di domenica il campionato prosegue senza sosta e mercoledì arriva al palavanco un'altra grande squadra dopo aver affrontato nel giro di pochi giorni Perugia e Trento. Arriva Civitanova, una squadra ben attrezzata e candidata alla vittoria finale. Come si può mettere in difficoltà una formazione così attrezzata per vincere? Già, prima di tutto dobbiamo pensare al nostro gioco, fare quelle cose che sappiamo fare bene. Quello è la prima cosa su cui dobbiamo pensare. Poi sicuramente contro una squadra così forte dovremo prendere dei rischi sicuramente per mettere in difficoltà, che sia in battuta, in attacco, o qualcosa che dobbiamo fare in più per provare di mettere in difficoltà questa super squadra. Civitanova può contare su attaccanti e centrali, tutti sempre molto chiamati in causa dal loro proleggiatore. Quali sono secondo te i punti di forza di questa squadra? Sicuramente è una squadra molto fisica, in senso sono grandi attaccanti, grandi emulatori, hanno un grande livello di forza in attacco, quindi dovremmo trovare una tattica per riuscire a limitare questa cosa. Da parte di Piacenza c'è sicuramente, ci sarà sicuramente tantissima voglia di riscattare una prestazione un po' così così contro il Terento. Cosa vi siete detti, cosa vi state dicendo in palestra in questi giorni, prima di scendere in campo contro una squadra così, insomma, come Civitanova? Sì, come ho detto prima, noi stiamo facendo il nostro percorso, stiamo crescendo e quello che conta di più, piano piano, stiamo lavorando tutti i giorni per crescere. Quello che dobbiamo fare, la sconfitta contro Trento è stata abbastanza dura, loro hanno fatto una grande partita qua contro di noi e noi dobbiamo sempre pensare al futuro, al passo dopo e passare a fare una bella partita contro Civitanova domani, poi il risultato vediamo, ma dobbiamo pensare a noi.